Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Materassi Materasso sfoderabile multionda. Il materasso piuma multionda alto 25 cm è dotato di tre lastre, pantografate di diversa portanza e densità. Una lastra di memory foam, altezza max 10 cm a rigidità media ore 2 a 9 zone differenziate. Una lastra gel a celle aperte altezza max 8 cm a rigidità media ore 2, ed una lastra in poliuretano relaxa altezza max 10 cm a rigidità media ore 2. Il segreto di questo nuovo sistema riposo è la particolare pantografia delle lastre, che favorisce la microcircolazione del sangue ottimizzando il sonno nelle sue molteplici fasi. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione.